In Francia i termini della riforma previdenziale annunciati questo mercoledì dal Premier Eduard Philippe non hanno soddisfatto le attese dei sindacati, neanche dei più moderati. Le concessioni sull'età non bastano a colmare la fine dei regimi speciali e l'acquisizione del sistema a punti in vista peraltro dell'età pensionabile che potrebbe nel giro di pochi anni arrivare a 64 anni. Le parole del Premier non bastano e sindacati delle ferrovie in prima linea contro la riforma annunciano di voler rinforzare la mobilitazione. Manterremo l'età minima per andare in pensione a 62 anni, ha detto Philippe, l'età legale che consentirà la pensione. Non verrà quindi modificata, 62 anni ben inteso, se il percorso lavorativo lo consentirà. Non costringeremo nessuno, tuttavia chiediamo ai francesi, di lavorare un po' di più. Il nuovo sistema pensionistico interessa chi è nato dopo il 1975. Si tratta di un sistema a punti che per loro entrerà in vigore nel 2025. Sarà invece il nuovo sistema pensionistico francese a partire da 2022. E' oggetto di quasi due anni di negoziati, il modello a cui si ispira, già in vigore in Germania e Svezia, cancella i regimi speciali e le casse autonome. Saranno soprattutto le donne a trarne vantaggio. Oggi sappiamo che le pensioni delle donne sono più basse, quasi la metà delle pensioni degli uomini. E' inaccettabile. Questo è durato troppo a lungo, anche se col tempo è migliorato. Al settimo giorno di sciopero, la situazione dei trasporti pubblici resta critica, soprattutto a Parigi, dove nove linee di metro su 16 sono rimaste chiuse e solo il 40% dei collegamenti in superficie sono stati assicurati.